Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale e siamo qua su Dragon Ball Legends Finalmente di ritorno per l'anniversario ragazzi, come avevo scritto nel post community Avrei postato anche Legends, Nanatsu, tutti gli altri giochi gacha sarebbero arrivati qua Ragazzi io vi ricordo ovviamente che trovate nelle schede il primo video del giorno Però, detto questo, comunque, prima di partire io vi chiedo solamente di lasciare almeno 500 like 500 like per Dragon Ball Legends, l'anniversario Ovviamente se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione Ragazzi abbiamo un full giro da fare, lo facciamo da Zamasu, da Zamasu e Trunks Perché mi piace un casino Zamasu, come detto non giocando in PvP, pullo le unità che mi piacciono Quindi Zamasu mi piace veramente troppo e lo voglio provare a prendere Ovviamente c'è anche Vegito, Vegito Blue LF Ciao Vegito Blue LF che praticamente è identico al tech di Dokkan il vecchio È lui, però solo molto più figo quella è la questione E poi comunque abbiamo il full giro e abbiamo anche la singola da fare qua sopra La singola da fare con 5 ticket la facciamo Ragazzi abbiamo anche una multi gratuita Chiudiamo con quella, chiudiamo con quella che se scullo lì sopra poi dopo Min cacchio se non trovo niente Pullando nella step up di Zamasu Detto questo, comunque partiamo subito con il giro Cerchiamo di finirlo bene 4100 ce le ho contate per il giro Non mi interessa Omega e Goku Super Saiyan 4 Quindi sono qua per pullare su Zamasu Voglio Zamasu, è super figo Zamasu Ah, è l'animazione shaft, vabbè Le prime 100, dai Si deve shaftare per poi caricare tutto il culo E pullare Zamasu Zamasu è il mio primo problema Vegito è fighissimo, però è un LF So che potrei diventare scemo a cercare un LF Quindi se esce esce Io voglio Zamasu Mi piace troppo, ci posso far poco Zamasu mi piace veramente troppo Ok, primo ticket, eccolo qua Primo multi Oh, c'è quella con gli X Cavolo, mi mancano un bel po' di X Quindi alla fine dei conti questa multi è sempre OP Non ne ho tanti, quindi è sempre OP l'AEX garantita almeno Quanti pods Ok Può essere qualcosa di più di un X, vero? Ok, pareggio Rip, vabbè Saranno Super Saiyan, ok Si alza un po', dai Dai, sono almeno 10 EX Va bene un SP, eh Una Sparking sarebbe molto figa Legends, sappilo Sappilo veramente Videl Ok, nuova Ho molti X che non ho Perché fondamentalmente non pullo ovunque Ragazzi, cioè L'ultima volta che ho pullato Ho pullato da Kefla Ok Ho pullato da Kefla L'ultima volta ho pullato tutto da Kefla Ciao piccolo Ah, rip Rip No, 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 non era nuova la Videl Però era nuovo il Super Trunks Va bene comunque Ah, ecco di qua Si, ciao Videl Ciao Videl Non me ne frega niente di Videl, ok? Non me ne frega niente di Videl Videl non me ne frega niente Oh, entriamo nelle multi quelle interessanti da 10 Finalmente Ci siamo Qua inizia il giro vero e proprio Zamasu O Vegito Vegito alla F sarebbe figa Ho visto che c'è anche l'animazione di Vegito proprio Bellissimo però, vediamo Ho anche fatto il download all Così non mi spoilero tanti pods Ok? Eeeh 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 Le botte No, no Uh, pull rosso va bene Vediamo un po' Ma più che altro Non ho visto bene l'animazione di Vegito Fai qualcosa su per Saiyan 3 quelle cose Niente Può essere un fake out Non Non ho visto bene come funziona l'animazione di Vegito Ho visto che arriva Vegito che si scontra contro Broly Quindi probabilmente Sarà proprio l'inizio dell'animazione Quella è l'animazione C'è proprio Vegito e tutte le cose super fighe Sarebbe bella trovarla sinceramente C'è Sudokan Abbiamo la Vegito Animation E ora c'è anche qua Sarebbe veramente figo trovarla Froster Froster Senti Non rompermi le balle Ok Non iniziamo male Non iniziamo male Frost Non rompermi Ok? Ok va bene Va bene Multishaft Ci sta Speriamo in quel 10% Speriamo in quel 10% Ragazzi speriamo veramente in quel 10% Visto che ora sono aumentati i rate Fatemi vedere quella SP 10% Dai Grazie mille per l'altro ticket Con questo dovremmo avere i 5 ticket Quindi siamo a posto IEX Ah è di nuovo IEX Ah a posto Ok Va bene Altra mulli Multi da 100 Eh sì da 100 Da 1000 Altra mulli da 1000 Ci siamo Ormai siamo quasi alla gratuita Quando vuoi Stanno esplodendo i server Vero? Cioè sto pullando quando è proprio uscito il banner Quindi Sì è ok Stanno esplodendo i server Wow Ah ok Non me le ha spese Ah ok va bene Non me le ha spese Stanno esplodendo i server Ci sta Ci sta È normale anniversario Diamo un pochino Loading dai Oh 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 Bello Bello Questa animazione bella SP SP c'è Ok Vorrei tanto però trovare Eccolo lì Eccolo lì Battiamolo Frieza Vai a quel paese Super Saiyan Perfetto L'SP dovrebbe esserci no? Sì perfetto Esplodi Esplodi Frieza Esplodi Esplodi veramente tanto Frieza A posto in questo modo Uh ok Vediamo Sarà dura trovare Vegito Che comunque credo che sia lo step 5 o 6 Che ha il 2 per 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 Vegito Quindi ci si spera lì Ci si spera soprattutto lì Però c'è anche Dovrebbe avere due 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 per cento proprio Zamasu Quindi anche Zamasu Se mi esce sono felice Trunks L'SP dov'è? Dov'è l'SP? Dov'è l'SP? Dov'è l'SP? Eccola 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 No Vegita God Vegita God Peccato Non ce l'avevo quindi non è un problema No 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 Ce l'avevo Però non tanto stellato Sì infatti Avevo una copia a posto Peccato 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 Deve uscirmi quel Zamasu Io voglio uscirmene con Zamasu Vegito Zamasu lo voglio troppo È troppo figo Cavolo Lo voglio Lo voglio Zamasu lo voglio Perfetto Ciao Vegita Ce ne sbattiamo di te Ce ne sbattiamo altamente di te Ok Ce ne sbattiamo al momento Ok Eccolo qua New character rates per 2 Quindi abbiamo la chance di trovare Vegito Abbiamo la chance di trovare Zamasu aumentata Quindi proviamoci Dai Che poi mancano le ultime due multi Abbiamo la singola Vegito basta avanza Vegito basta avanza Per favore No Pur rosso Qualcuno Mi venga ad aiutare Vegeta Super Saiyan 3 Roba così No Oh Dai No Che palle Che palle Che palle Che palle Non voglio Non voglio Non voglio spendere più del dovuto Cioè Sinceramente Ok Non voglio neanche spendere Spendo sudocca Io quindi Non voglio spendere qua sopra Se trovo la roba Sono felice Però Non le shaftate così Nella New character No Che mega shaftata Cavolo Che mega shaftata Ma Radice Non rompermi le balle Con le 7 più 2 Non me ne frega niente Non me ne frega niente Ok Non me ne frega proprio niente Ok Che shaftata Ok torniamo indietro Torniamo indietro Torniamo indietro Ok calma Andiamo Zamasu o Vegito Zamasu o Vegito Attenzione Oh Ok È già meglio Dai Per favore Questa è una Delle animazioni buone Dai Sta vincendo A posto Genkidama 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 Datemi la vostra energia Datemi Zamasu o Vegito Zamasu o Vegito Esplodi Zamasu o Vegito Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Zamasu o Vegito Ti prego Vediamo un pochino Kabba La Genkidama Finalmente Videl Non rompre Eccola 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 Oh Vegito LF Va benissimo Va benissimo Vegito LF Non ce l'avevo A posto Buonissimo Vegito LF Non ce l'avevo Ok Ok Si è alzata Finalmente Si è alzata La qualità Delle summon E' l'unica Però Ti prego Non essere l'unica Dai Dai Non essere l'unica Vabbè che Ho sculato LLF Quindi Alla fine Dei conti Non mi devo lamentare Vai così Vegito LF Non ce l'avevo A posto Buono Cavolo Buono Ok Ora però Bisogna trovare Zamasu C'è la gratuita Abbiamo il ticket E poi facciamo L'altra gratuita Che è Speciale Del thank you Second anniversary Quella Quella roba là La facciamo Come ultimo multi Ok Ultimo multi Gratis Ti prego Animazione figa Come questa Sarebbe molto bello Dai Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Ok Vegito Zamasu Tutte e due Tutte e due Vieni Goku Pulgello Vai 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 Ti prego Oh Ok No Non farei Oh Vegeta Vegeta Final Flash Vieni Esplodi Frieza Esplodi Oh mio Dio Oh mio Dio Speriamo in bene Oh mio Dio Speriamo in bene Vegito Zamasu Sono gli unici due Che veramente cerco Ciao Califla Attenzione No Goku Super Saiyan Blue Kaioken Ok Speriamo che ce ne siano altre Cabba Eccolo un'altra Trunks Trunks Va bene però Voglio Zamasu io Non Trunks Lo accetto Lo accetto per l'amor di Dio Però voglio Zamasu Vediamo se ce n'è un'altra Cavolo sta Monti Cavolo sta Monti Però va bene Eccola qua SP Are you sure about that Il troll Il dannato troll Il dannato troll Vegeta Dovrebbe finita Eh è finita qua Va bene comunque Va bene comunque Perché almeno ho portato su Il Kaioken E abbiamo trovato Trunks Peccato niente Zamasu Oh la free è stata L'animazione più figa La Genki Dama ci stava Però questa è stata L'animazione più figa Vegeta è tutto Ok Ragazzi abbiamo finito qua Con le multi A crono Fini Basta Andiamo a farci il nostro Il nostro ticket Eccolo qua Vegito Prima di tutto Perché comunque Questo è E i ticket Poi non credo di pullare più Quindi Quindi devo tenere Quindi Per favore Vegito O Zamasu Sono le uniche due Andiamo a fare il ticket Ragazzi Portatemi fortuna Scrivete Scrivete sotto nei commenti Usate le monti Comper alzate Oh buono Buono Buonissimo L'animazione è figa Ora dammi 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 Vegito A sto punto Dai su Dammi Vegito Dammi Vegito Cavolo Dammi Vegito Dai Dai Pur rosso Dammi Vegito Non so come può andare a finire questa NANI Oh Oh Oddio 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 Broly Oh my god Number one Vegito 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 Eccolo Vegito Blu Certo Non è canon Ma è una roba super figa Non è canon Ma è una roba super figa Vegito Ma no Di nuovo Vegito L'animazione ci sta No Vegito Cavolo Vegito Di nuovo No Va bene Per l'amore di Dio Va benissimo Che trollata Tutta sta animazione Credo che sia l'f garantita Quell'animazione Oh mio dio Dio buono Che trollata Che trollata Ragazzi Che trollata Torniamo un attimo qua nel pool Io direi di finire con Questo video Con questa summon E ogni giorno Si spera ovviamente Cioè C'è molta roba alla fine Si spera Si spera Niente Vegito Amen Peccato Peccato Ci speravo Amen Va bene Vediamo un po' Multigratuita Mi vuoi dare quello che non ho? Oppure Oppure No eh Ok sta perdendo Schifo Facciamo così Va bene Gogetta Chiudiamo con Gogetta Chiudiamo con Gogetta Quattro stelle Finalmente Ok quello non me l'aspettavo Dove essere sincero Non me l'aspettavo L'animazione L'aveva anche persa Va bene ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Fatemi vedere Lasciate Come detto 500 like 500 like per Legends Ovviamente Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Detto questo Noi Ragazzi Ci becchiamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti